Ciao a tutti ragazzi io sono Suri e benvenuti in questo nuovo video aggiornamento del display degli iscritti e dall'isola degli iscritti Iniziamo subito col display perché siamo aumentati ancora un bel po' perché ora ho appena finito di fare la live e anche nella live siamo aumentati di 100 iscritti in una live Ragazzi è una cosa veramente incredibile e adesso siamo esattamente a 7608 iscritti quindi aumentiamo questi numeri qua Tutti e tre uno alla volta facciamo così Ok 7400 7500 Qua ci vuole uno 0 e qua un 8 Ok così vediamo di farci arrivare i numeri che vogliamo Ok 607 e 608 E abbiamo superato anche il traguardo dei 7500 iscritti quindi un altro traguardo a 2 0 superato grazie veramente a tutti quanti quelli che si sono iscritti anche nuovi durante la live E adesso andiamo a nominarvi tutti i nuovi membri dell'isola degli iscritti che vi ricordo se volete essere aggiunti in quest'isola qua basta compilare il modulo che si trova in descrizione E domenica prossima vi andrò ad aggiungere Quindi prendiamo di nuovo il libro che avevamo lasciato nell'ultimo episodio eccoci qua dovremmo essere arrivati a eccoci qua dovrebbe essere gabry 2004 l'ultimo Quindi oggi è aggiunto da Henry Tech 04 in poi quindi dopo Henry Tech abbiamo Mister Giacomello Nella prossima pagina abbiamo Passiamo alla pagina numero 12 abbiamo Pietro Coseddu Diego Scarpignato Simo Giovi King 81 Zondal 220 Guidelli Michael MF Mike Energy Ivan C Ale Dimi Spaccacervelli Ok Marcus Clash Simo Tricchi Flavius Cavone Andrea Gallo Poi ci abbiamo Nocus 02 Lorenzo 1411 Raffaele Fiorina Vito Gallo Fede 04 Rick Boss Claudio Mattia Gallucci Ciccioman24 Francesco Renna Alessio 168 La Spranga Volante Anonymous Altro City L Chaos Ok E l'ultima pagina abbiamo Hardix Official Piazza Boss Maxi 04 Dodasamu 2.0 Master The Game Avamal Pit DJ Che fa parte anche della Multicore E l'ultimo che ha compilato il modulo anche lui appena adesso Poco prima che iniziasse a registrare E Craft C48 Quindi benvenuti a tutti voi nell'isola degli iscritti Grazie per esservi iscritti al mio canale Riposiamo il nostro libro qua E quindi questo video può finire qui Come sempre siete un bel mi piace se vi è piaciuto Vi ricordo che se volete essere aggiunti in questo isola basta compilare il modulo Che si trova in descrizione Domenica prossima vi andrò a giungere Io come sempre sono Suri Ciao tutti